Niente rassegna dei vini per Casteggio che dopo vari decenni sceglie di rinunciare, almeno per quest'anno, al tradizionale evento di fine estate. Tra i produttori c'è chi come Enrico Albani dell'omonima azienda casteggiana guarda con un velo di rimpianto al passato e spera che lo stop sia solo un momento di riflessione per il rilancio dell'evento. L'idea che questa manifestazione così casteggiana sia scomparsa non può che fare molto dispiacere. E il sindaco Callegari a spiegare il perché di questa sofferta decisione. Da una parte problemi finanziari che avrebbero impedito di realizzare una rassegna dignitosa, dall'altra la recente e drammatica scomparsa di Gianni Saporiti, uno degli storici fautori della manifestazione. La sua opera e la sua lungimiranza era difficilmente sostituibile, quindi sia una questione economica ma anche una questione di rispetto per una persona che è tanto dato per il nostro territorio. Queste due cose hanno fatto sì che noi abbiamo, per cui noi abbiamo deciso, che per quest'anno si soppressiede e l'anno prossimo ci riproponiamo di ripartire come si deve. E se Casteggio si ferma in attesa di ritrovarsi forse sulla via dell'Expo, Stradella rilancia con un'edizione di vin uva particolarmente ricca. Un modo per riempire il vuoto lasciato dalla rassegna di Casteggio? Sicuramente lascia un vuoto anche se questa manifestazione non ha lo spirito della semplice rassegna, forse addirittura qualcosa in più. Nel senso che quello che si vuole fare non è soltanto mettere a disposizione e mettere in vendita il vino, ma è proprio come dicevo comunicarne un valore anche sentimentale, un valore di suggestione legato alla sua produzione. Ed ecco perché le sei postazioni con la botte e con il sommelier dedicate ciascuna ad un vino diverso, saranno proprio l'occasione per viaggiare in questa contrada e scoprire un sapore nuovo, scoprire una cosa che prima appunto non si sapeva.